Allora sono qua con Solidworks e oggettivamente non si finisce mai di imparare. Allora, fondamentalmente mi manda, il mio alunno mi manda questo 3D e mi dice il peso è leggermente differente, il peso è leggermente differente, di fatti naturalmente va fino a qua, dopo io ho aggiunto questo. Ok, proprietà di massa è 14.207,08, in realtà se io vado a vedere dov'è che, caspita l'ho perso, il risultato dovrebbe essere 14.207,34. Dunque ci sono circa, cos'è, 8, 26, ok, 0,26, diciamo 3 decimi di grammo di differenza. Io controllo, è tutto uguale, no? È tutto uguale. Cioè io vado a valutare e, caspita, qui, insomma, sono andato a vedere, qua mi dà 9. L'unica cosa che noto è che ho uno schizzo 3D qua. Uno schizzo 3D, però vado a vedere... Sembra giusto, no? A occhio sembra giusto. Se io poi vado qui, da qui, mi dice distanza normale, dunque torna tutto. Però ho detto, ma perché non vado a sospendere? Perché l'unica possibilità era quell'estrusione partendo da uno schizzo 3D, ok? Che non è uno schizzo su un piano, ma è uno schizzo su XYZ, in verità, non su questo piano che è parallelo al piano XYZ. E io ho detto, può darsi che sia questa l'ipotesi, ok? Allora sono andato a sospendere questo, a questo punto si sospendono i raccordi, sono andato a crearlo proprio con uno schizzo 2D, lo vado a reattivare, vado a mettere i raccordi, c'è solo questo, vado a proprietà di massa e caspita è giusto, 14.207.34. Dunque cos'è che era? Era quello schizzo 3D che formalmente era giusto, formalmente, però si vede che creava una piccola variazione, perché anche l'orientamento era giusto, è giusto, non si poteva vedere ad occhio, però oggettivamente nel 3D crea una piccola variazione di circa 3 decimi sul peso, per carità, visto la cosa, alla fine il risultato viene giusto, però anche quello, stiamo attenti a questa cosa qui, ecco, stiamo molto attenti, perché se vogliamo, ricordiamoci, se andiamo a stampare in 3D, poi queste cose potrebbero creare delle problematiche, che creare delle problematiche. Va bene, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.